L'emergenza abitativa a Roma si amplia secondo l'ultimo studio di Caritas. Sono 30.000 nuclei familiari che hanno chiesto al Comune un contributo per pagare l'affitto. I provvedimenti di sfratto in pochi anni sono triplicati arrivando nel 2022 a 6.591 e tanti sono avvenuti per morosità incolpevole. Ci sono poi 16.600 famiglie in attesa di un alloggio popolare che aspettano in media 10 anni mentre 1.000 famiglie in emergenza abitativa sono ospitate a spese del Comune. 4.000 le famiglie in alloggi occupati senza titolo e ci sono quelli senza alcuna abitazione erano 23.420 senza tetto e senza fissa dimora censiti da Istat al 31 dicembre 2021 nei 120 comuni dell'area metropolitana di Roma la maggior parte dei quali nel territorio della capitale. Il censimento realizzato quest'anno da Istat e Roma Capitale ha invece individuato 2.204 persone che passavano la notte in strada nella sola area dell'anello ferroviario di Roma comprese le stazioni ferroviarie di Romostiense, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana e nei quartieri residenziali del decimo municipio.